boh ragazzi io sono sincero dico la verità non so più minimamente a cosa credere non so più quale tipo di aspettative io mi possa fare ma in tutto questo non mi voglio illudere quindi è un casino che regna non sovrano di più perché oggi è indubbiamente ripartita la macchina dell'illusione soprattutto perché è ritornata questa voce prepotente dall'arabbia saudita riguardo la figura di massimiliano allegri sulla panchina dell'alilal e uno potrebbe dire sì però puntualmente dopo sono iniziate aggiungere una serie di smentite non indifferenti con alcuni giornalisti di da zone che hanno detto che dall'entourage della juventus e comunque anche dell'allenatore è arrivata la conferma che a prescindere massimiliano allegri sarà sulla panchina della juventus inizialmente le voci che erano iniziate a circolare questa mattina parlavano di un'offerta a grandi linee sulla falsa riga di quella che c'era stata qualche settimana fa che evidentemente aveva avuto esito negativo e poi in tutto questo dopo questa smentite dopo questa notizia che era durata più o meno da natale a santo stefano o come la superlega banalmente è arrivato giovanni albanese giovanni albanese che sulla figura di massimiliano allegri è sempre stato molto cauto anche quando circolavano queste voci dall'arabbia saudita qualche settimana fa lui nonostante tutto diceva no state tranquilli che massimiliano allegri andrà a rifiutare questa offerta è vero che ci sarà quest'incontro a monte carlo ma andate pur certi che massimiliano allegri dirà di no e quant'altro e per l'amor di dio per l'ennesima volta non è che albanese abbia detto sto giro va via è tutto fatto al 100 per cento e fuori dalla juve però ha parlato del rilancio promesso a massimiliano allegri dall'arabbia saudita all in con un triennale da 30 milioni a stagione ed è vero che noi siamo tifosi juventini quindi non sempre la matematica è un'opinione facendo una leggera battuta però rapida botta di conti tre per tre fa nove no quindi 90 milioni di euro per tre anni in arabia saudita che poi tre anni magari lo possono esonerare anche due mesi però il contratto dice 30 milioni di euro l'anno per tre stagioni non so a questo punto se ci sarà o meno no un ipotetico bonus alla firma in questo rilancio per fare cifra tonda e portare il tutto a 100 milioni per avere massimiliano allegri sulla panchina della lilal per tre anni però questo pare essere da un momento all'altro è vero che siamo sempre di più all'interno dell'estate è vero che sempre di più si stanno alzando le temperature ma da questa mattina per i tifosi della juventus il clima non è coccente di più e io in tutto questo sono in questo limbo che non so se illudermi o meno se non so quanto prendere reali o meno queste voci che sono riniziate a circolare prepotentemente a partire da questa mattina notizie lanciate soprattutto da da siti arabi che non riporto nemmeno il nome più che altro perché banalmente non lo saprei neanche leggere visto che erano scritti no giustamente in arabo però insomma vai a vedere pagine seguite da centinaia di migliaia di persone da milioni di persone che anche questo ti fai in qualche modo titubare ma questi sono credibili o no dicono no veramente le cose come stanno oppure no poi ho visto che nel dubbio qualche arabo ha preso la notizia di re sport che mi ha fatto dannatamente scendere tutto quanto altri giornalisti arabi che negli ultimi anni quando hanno provato ad inserirsi nel calcio mercato dicevano a succedeva b c d e f tutto l'alfabeto tutti i numeri ma la a che dicevano loro nel dubbio non si concretizzava mai e tutti questi stanno iniziando a parlare di un allegri praticamente tutto fatto alla lilà poi le smentite che dici boh tanto questo si aveva rifiutato qualche settimana fa va a dire sì adesso che praticamente tra tre settimane scarse probabilmente rinizio il ritiro boh non lo so ragazzi non voglio illudere me non voglio illudere minimamente voi anche se poi dopo ognuno giustamente se vuole ritenere vera o meno la notizia è soggettivo se uno ci vuole credere ci vuole sperare è giusto che lo faccia se uno vuole stare tremendamente con i piedi per terra in questo caso mi sento di dire che è doveroso lo faccia perché altrimenti c'è il rischio di rimanerci male qualora poi o primo giorno di ritiro è arrivato massimiliano allegri no che fa un pochino per dire giustamente però cavoli boh si potrebbero fare anche poi tutti i discorsi che bene o male si sono già fatti giustamente no perché una persona normale di fronte a certe cifre viene banalmente da pensare come fai a dire di no soprattutto qualora davvero il rialzo sia 30 milioni l'anno per tre anni per una cifra complessiva di 90 milioni di euro e uno anche qui potrebbe giustamente rispondere vabbè comunque va in arabia va in un campionato che non è un campionato magari anche giustamente agli affetti familiari qui e nipò e nonno da poco tempo quindi magari vuole stare il più possibile vicino alla famiglia nella sua testa comunque c'è l'idea di voler tornare a vincere qualcosa con la juventus anche in un qualche modo no per smentire tutti quanti e dimostrare che comunque nonostante tutto allegri e la conferma di allegri è stata la scelta giusta però poi pensi anche a tutto quello che è stato il campo quelle che sono state certe dichiarazioni quello che è il rapporto con ormai gran parte dello spogliatoio e pensi ma come si può veramente andare avanti quali sono davvero le condizioni per andare avanti con massimiliano allegri però questo ti verrebbe da pensarlo no lato juventus non perché allegri di punto in bianco accetta un'offerta da 90 milioni di euro altrimenti sarebbe stato tranquillissimamente lì e quindi anche tutto questo no crea in un qualche modo un casino all'interno della testa del tifoso soprattutto quando poi magnanelli era una richiesta di allegri e magnanelli accettato la juventus milic era comunque volontà di allegri no quella di mantenerlo all'interno della rosa della juventus tempo qualche giorno e milic è stato ufficialmente riscattato si sta facendo di tutto comunque anche per riscattare rinnovare più che riscattare rinnovare adrian rabiot per un'altra stagione e pare che massimiliano allegri sia in grado di poter convincere il giocatore francese ad accettare un ulteriore anno con la maglia della juventus d'altro canto però facendo no lo stesso gioco l'anno scorso quando era andato via del ict chi voleva massimiliano allegri per rimpiazzarlo calidu colibali e proprio quale club pare abbia appena chiuso per calidu colibali lali lal questa è così una piccola roba per mettere no un pochino di pepe per illudere un pochettino tutti quanti questa probabilmente è stata una mossa anche abbastanza bastarda del sottoscritto me ne rendo conto me ne scuso però allo stesso tempo è anche pur sempre la verità e io onestamente ragazzuoli non lo so non lo so perché un lato di me spera dannatamente possa essere innanzitutto vera la cosa e nel momento in cui dico la verità albanese parla in questi termini di allegri tendo ad abbastanza crederci sono sincero il più è anche vedere quella che sarà eventualmente la volontà dell'allenatore anche l'altra volta c'era una cifra della madonna sul piatto ma la risposta è stata in tutta tranquillità no anzi sono a monte carlo vado a milano per fare un briefing con manna per iniziare a pianificare il calciomercato però d'altro canto qui si inizia veramente a parlare di cifre che non sono fuori dal mondo probabilmente pure peggio ed è difficile farsi davvero un'idea ecco ognuno magari si può attaccare o meno alla propria speranza alla veridicità che ognuno dà alle fonti che riportano determinate notizie nello specifico io non voglio dire che non ci credo perché ci posso anche credere a questa offerta non non so quale possa essere semplicemente la risposta di allegri perché anche l'altra volta non si parlava proprio di noccioline non si parlava proprio di cifre così neanche così tanto lontane da quelle che percepiva la juventus si parlava sempre di più del doppio eppure la risposta è stata no magari veramente se ci sono sul piatto 90 milioni non so se sia davvero quello a far cambiare un qualcosa in cuor mio lo spero razionalmente parlando però non ci voglio credere non è che non ci credo non ci voglio credere perché poi torni al discorso di prima rischi di rimanerci male e quindi insomma nel dubbio è meglio non scottarsi poi qualora invece dovesse no se prendere sempre più piede questa notizia iniziasse no a trapelare il sì come risposta da parte di massimiliano allegri beh le bevande fresche tocca prenderle con sto caldo in frigo ce ne sono alcune particolarmente pregiati in attesa della novella notizia ed eventualmente vedremo no se se ci sarà la possibilità di sbocciare oppure no nel dubbio però andiamo cauti se riaccesa questa voce questa pista questa speranza anche da un certo punto di vista ma mi raccomando andiamoci cauti perché altrimenti è molto facile rimanerci male detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve